...hanno ritrovato qua i propri indumenti puliti e soprattutto... ...via, troppo stanca... ...attenzione sempre... ...scusami ma... ...sono arrivati anche i ragazzi del gruppo sportivo dolese... ...ormai dovrebbero mancare pochi ragazzi e poche ragazze per la nostra gara... ...in tanto è arrivato anche... ...Alessandro... ...i tetti sono arrivati... ...go giorno Alessandro... ...tempo perfetto per correre, non lamentatevi che... ...quando non c'è caldo e così si sta l'abbonizzato da Dio... ...comprimenti a tutti e ci vediamo dopo alle premiazioni... ...c'è il ristoro qua dietro, abbeveratevi... ...dov'è che hanno il fardeggiato? Alessandro ci diceva che è una bella giornata... ...che questo è il tempo giusto per correre... ...doviamo chiare il servizio... ...no dai... ...la fine di acqua non abbiamo riservato... ...la nebbia... ...la nebbia... ...per chi sta dietro? ...per chi sta dietro... ...in questo caso è stato un po' dietro... ...allora appena arrivata anche a te... ...una bella gara a 10 km di 500 metri... ...una domenica mattina da adrenalina blu... ...sì è... ...è un complimento per il Gessimo... ...perché... ...com'è stata la loro domanda... ...che sono sempre... ...in prima linea... ...como ci dà l'organizzare... ...e lavorare... ...sì... ...e piaceremo dalla ricosale... ...ci vediamo più tardi... ...eggri grazie... ...faremo questa domanda... ...ce per favore di Ficcio Piccadino...